San Zenone, giovedì 25 aprile, tutti in bicicletta per il tradizionale appuntamento primaverile organizzato da Proloquo e Protezione Civile. Appuntamento alle 8 e mezza in piazza Rovero e poi via verso Liedolo, sopra Castello, giù sino a Carainati. Saranno premiati il gruppo e la famiglia più numerosi, il bambino e la bambina più giovani, il più anziano e la più anziana in sella alla sua bicicletta. Il percorso si snoderà a lungo tratti asfaltati e sterrati per i ragazzi sotto i 14 anni, obbligatorio il casco.